benvenuti a torino web news edizione del pomeriggio edizione culturale vediamo subito quali sono i principali appuntamenti per la giornata di oggi cominciamo segnalandovi un concerto al teatro agnelli via paolo sarpi 111 il concerto del progetto cora cane con erica santoro gualtiero alladio elisa ragno alberto poggio e gisella beina lo spettacolo si chiama una corrente d'alio un omaggio a fermanda pivano e fabrizio di andrè con musiche di di andrè leonar coen nicola piovani e bob dylan l'orario è ore 21 vediamo adesso una presentazione letteraria è l'ultimo libro di bruno gambarotta si intitola porli per sempre viene presentato oggi alla biblioteca civica villa amoretti alla presenza dell'autore alle ore 18 in corso orbassano 200 finiamo con madonna e il suo film d'esordio quello che viene proiettato questa sera alle 20 e 30 alle 22 e 15 al cinema massimo in sala 3 titolo filter wisdom sacro e profano viene proiettato nella sua versione originale con il sottotitolo in italiano per quest'oggi è tutto l'appuntamento con le notizie dal web della città torna domani alle ore 16 e 15 l'edizione culturale naturalmente io ringrazio mario parena per la messa in onda e vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti